namaste io sono is the brave ben ritornati all'apertura di un pacco loot crate loot crate vi ricordo dell'iniziativa trovate il link in descrizione non è ancora attivo in italia ma questi sono video per promozione proprio per l'italia per poter far arrivare questi pacchi direttamente anche nel nostro bel paese vediamo un po che cosa ci aspetta questo mese con un tema molto interessante che è il tema play quindi hanno messo dentro un bel po di cose che riguardano i giochi giochi da tavolo giochi di carte qualsiasi tipo di gioco fondamentalmente è arrivato un pochino in ritardo rispetto agli altri ma ogni tanto succede vediamo un po che cosa ci aspetta qua dentro intanto mi è arrivato questo bellissimo gioco qui che è super fight probabilmente lo conoscete perché sta diventando molto popolare in questo periodo questo è un pacchetto speciale di carte sono 100 carte apposta per loot crate è uno di quei giochi forse conoscerete cards against humanity questo è un gioco molto simile a quello o meglio è un gioco in cui si usano queste carte è molto semplice da giocare vedete sono delle carte molto semplificate con ad esempio qua c'è sushi chef the navy e poi ci sono delle carte nere e poi ci sono delle delle carte blu che sono probabilmente i posti sì e delle carte viola queste praticamente vanno giocate insieme e il gioco consiste nel creare storie da queste carte qua quindi fate scontrare ad esempio il mostro di lockness con armato di una tuta da sub contro una guerriera mazzone che può essere ucciso solo se gli sparate in testa quindi praticamente formano delle combinazioni e a seconda delle combinazioni potete decidere votare chi vince o chi perde in questo gioco quindi molto carino come gioco soprattutto è un party game insomma per poter farsi due risate insieme un po come cards against humanity la differenza che questo qui è un po meno sconcio rispetto a cards against humanity che le cui carte sono veramente assurde ho visto ho visto delle cose molto razziste ma è fatto apposta per le brutte persone c'è proprio scritto nel titolo poi che cosa è arrivato è arrivato questo questo bellissima sacchettina qua mi piace un sacco quando mi arrivano le sacchettine in velluto e sono due dadi vediamo se si vedono se si vedono sono due dadi due di tre praticamente sono con carta forbice e sasso e questo è appunto il nero quindi praticamente sono due di tre per carta forbice e sasso niente male come cosa e questo appunto è un'altra delle delle cosucce questo è un poster vediamo esattamente che cos'è non ho ancora mai aperto quindi cercherò di capire insieme a voi che cos'è tra l'altro il pacchetto anche questa anche questo mese la scatola è diversa dopo ve la mostro niente male come cosa è un poster di pacman con il circuito logico che ci sta dietro quindi molto interessante anche un poster celebrativo insomma di pacman poi che cosa abbiamo abbiamo un munni un mini munni questi li avevo visti in fiera nelle varie fiere li vendono abbastanza praticamente è un un pupazzo completamente bianco però è colorabile questo è il bello di di questi munni probabilmente conosce conoscerete li avete già visti anche quelli che sono già colorati che citano i vari videogiochi fumetti qualsiasi cosa questo qua è molto simile in dimensioni vedete che è molto molto semplice è in una plastica particolare che può essere colorata e vi arrivano anche tre 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 colori apposta e da qualche parte adesso non so esattamente se c'era ma forse non si vede qua fatemi controllare no non si vede qua ma si ecco eccoli qua ci sono degli esempi di gente che ha colorato ha fatto ha fatto delle 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 colorazioni di questo insomma potrei colorarlo e farci qualcosa di molto divertente questo tra l'altro hanno la codina anche e non sono niente male come come materiale devo dire molto carino come come cosuccia magari anche scrivetemi cosa volete vedere che proverò a colorare un'altra cosa che è arrivata è questo ex bug che è una cosa molto interessante probabilmente lo smonterò per capire come funziona che cos'è questo bellissimo insettino ed è un insettino meccanico che funziona con una pila bottone una di quelle molto semplici e se riesco a trovare il tasto di accensione cammina cammina e anche risponde ai comandi nel senso ha un comando in realtà se voi battete le mani lui si ferma fa due passettini indietro e gira dall'altra parte quindi io adesso non ho lo spazio qua sulla scrivania per poterlo mostrare ma comunque è molto molto interessante quindi è un giocatolino così per poter fare anche degli scherzi magari quando capiterà fa solo un po di casino ma comunque è bello è bello da vedere molto realistico devo dire come hanno riprodotto il movimento di un insetto poi cosa abbiamo abbiamo un libro che si chiama ready player one ed è un libro è un romanzo che parla è ambientato nel 2044 centra con i giochi e i videogiochi è un mondo distopico del futuro sarà molto interessante leggerlo ovviamente in inglese ma è una storia ho letto il primo capitolo niente male devo dire e continuiamo con le ultime cose ovviamente è arrivata la pin anche questo mese con appunto il tema che è play e andrò a metterla insieme a tutte quante le altre a quanto pare quest'anno ce l'hanno molto con il colore arancione qua intorno ma è uno dei colori di loot crate nero arancione bianco sono e quindi abbiamo anche questa questo mese è arrivata anche la carta la carta loot crate per hanno hanno aggiunto questa cosa la tessera loot crate questo è uno sconto firefly online è uno sconto per poter giocare a firefly online abbiamo il solito manualetto qua con dove 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 con le foto di chi ha partecipato ai loot crate scorsi questo qua era quello degli anniversari di tetris di batman eccetera eccetera che abbiamo visto recentemente c'è la spiegazione c'è una cosa molto interessante che voglio mostrarvi che è questa che è la storia dei controller c'è una bellissima illustrazione appunto che dimostra tutti i controller a partire da qua in basso fino allo steam controller che trovate in cima che deve ancora uscire ma comunque sono messi uno di seguito all'altro effettivamente si può vedere un trend di modifica man mano che si va in su è un'altra cosa che vi mostro è il fatto che nel finale c'è questa pagina qui che è ritagliabile o meglio in realtà basta è già ritagliata è una di quelle pagine in cartoncino che basta staccare le cose per poter giocare a un gioco da tavolo con la scatola ed è una cosa molto molto particolare i dadi servono a quello questo qua ci sono le istruzioni del gioco meglio ce ne sono due sono due giochi uno dentro l'altro uno è questo gioco che vedete qui vediamo se si vede la scatola ed è praticamente un gioco dell'oca più o meno in cui partite da qua sopra e dovete arrivare vedete che fate il giro in realtà però è un gioco abbastanza divertente e possono essere fatte un altro party game che potete fare in compagnia e in più c'è una cosa molto divertente che è il crate packing simulator 2015 che praticamente è un simulatore di montaggio scatole praticamente premendo due bottoncini di qua e di là smontate la scatola e quindi la rendete piatta e dovete rimetterla insieme fa parte del gioco stesso nel senso che mentre giocate a questo gioco qui e questo gioco qui aveva iniziato con questa scatola piatta a un certo punto succederà che finendo su una casella dovrete montare la scatola e continuare a giocare con la scatola montata e alternati a scatola montata e smontata e quindi praticamente il gioco diventa molto più interessante perché cambia un po' ad esempio se siete qua sopra finirete per cadere in una di queste caselle quindi molto interessante come dinamica e mi è piaciuta molto leggere le istruzioni a riguardo con questo è tutto vi ricordo ancora che Loot Crate trovate le informazioni qua sotto del sito e gli stati dove è possibile trovarlo non è ancora disponibile in Italia ma i ragazzi di Loot Crate sono stati così gentili da mandarmi queste scatole appunto per poter pubblicizzare la cosa e vedere la possibilità di introdurre questo sistema anche in Italia mi piacerebbe veramente tanto essere promotore di questa cosa e appunto se volete saperne di più avete qua in descrizione e soprattutto condividete il video se volete far vedere insomma questa cosa agli altri italiani che magari sono interessati sono sicuro che Orgoglio Nerd su Facebook o comunque tanta tanta altra gente può interessare questa cosa con questo è tutto ci vediamo nel prossimo video io sono IsTheBrave Namaste and be brave!